Oggi ci tuffiamo nel cuore del gossip più caldo del momento. Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino stanno davvero tornando insieme? Ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati. Prima di continuare con il video, vi interessa ottenere un buono Amazon da 30 euro in soli 5 minuti in maniera completamente gratuita, sicura e veloce? Per riceverlo aprite i commenti e seguite la guida fissata nel primo commento sotto questo video o nella descrizione. Il mondo del gossip è in subbuglio a causa dei rumor su un possibile ritorno di fiamma tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Da anni si rincorrono voci su una loro riconciliazione, ma fino a oggi nessuno dei due ha mai confermato ufficialmente. Tuttavia, il noto settimanale, Diva e Donna, ha riacceso i riflettori su questa presunta storia, dedicando una copertina alla coppia e insinuando che qualcosa di più profondo potrebbe essere in corso. Sia Alessia che Stefano sono attualmente single, ma la loro vicinanza ha scatenato un'ondata di curiosità tra i fan. Recentemente, durante una puntata di Tale e quale show, i due si sono ritrovati fianco a fianco, alimentando ulteriormente le voci su una possibile riconciliazione. Tuttavia, secondo, D'Agospia, dietro le quinte il clima era tutt'altro che caloroso. I due avrebbero scambiato solo un saluto freddo, con Alessia visibilmente imbarazzata. Ma il colpo di scena arriva da Belen Rodriguez, ex moglie di Stefano, che durante una puntata di Domenica In, ha parlato apertamente dei tradimenti di De Martino, menzionando proprio Alessia Marcuzzi tra le altre. La Rodriguez ha confermato i rumor di sei anni fa, che allora portarono alla fine della loro relazione. Quando un fan le ha chiesto se la storia tra Stefano e Alessia fosse vera, Belen ha risposto con un deciso, confermo, facendo crescere ulteriormente la curiosità e l'interesse del pubblico. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, ma le speculazioni continuano a farsi strada sui social e nei media. I fan non vedono l'ora di scoprire se davvero tra Alessia e Stefano ci sia un ritorno di fiamma, o se si tratti solo di voci infondate. E voi? Cosa ne pensate? Credete che tra Alessia e Stefano ci sia davvero qualcosa? Fatecelo sapere nei commenti. E non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per rimanere sempre al passo con le ultime news del mondo dello spettacolo.